Vai, partito! Che sei? Ho visto che ho delle parti di contrabbasso? Sì, sì. Vabbè, come... Insomma, siamo sulle otto... Vale a questa, così siamo a posto. Siamo sicuri che hanno lo stesso spirito. Facciamo un'altra. Siamo già registrando. Di cui ho fatto anche le parti, ma sono veramente intuitiva per avere. Sì, c'è una signora che non si sente bene. Ecco, così adesso, per esempio... Questa è una delle due, no? Pianove di mese. È un finale. Smutando... Smutando lo smutabile. Possiamo fare come vuoi. Là c'è una trama, un'indicazione di riferimento. Qui, comunque, diciamo, è sempre un mock-up indicativo. É stesso processo. No parli. Non parli. Grazie a tutti